Bene ragazzi bentornati qui con un nuovissimo video, oggi andremo a regare a Dark Pakistan la sua skin che ha vinto nel video di ieri Dark Pakistan che skin vuoi? Dark Pakistan che skin vuoi? Stato Ok, compro come regalo Dark Pakistan continua e via Si è bloccato Si è regalato Oddio Ok, adesso facciamo un altro regalo a Dark Jackson Dark Jackson è bloccato Si è ripartito, è ripartito, vai sia oggi il video sarà così un po' strattonico, non capiamo perché obbliesce non va Vai, schianta del resto, vai, si Per chi è vero, se no il video è al primo dobbiamo fare il regalo Dark Ecco Dark Jack Perché non ce l'ho benissimo? Ok Benissimo, fai il regalo Invialo Grazie anche a Dark Jackson per il video dell'altra volta Anche se è arrivato secondo gliel'abbiamo fatto lo stesso il regalo Va bene Oggi Vogliamo fare un'altra registrazione più lunga Però mi sa che Si blocca sempre l'immagine Abbiamo problemi con OBS in registrazione Lasciamo solo questo video per dire che Abbiamo fatto il regalo Ai ragazzi E rimandiamo il video più avanti Questo Abbiamo un video bellissimo da fare Però stiamo avendo problemi con la telecamera E risolviamo il problema e poi lo Lo rifacciamo Ciao ragazzi Ragazzi bentornati qui con un nuovissimo video Oggi siamo qui con Federico e Lobby E qua c'è MariMari82 Però di nuovo è Joelle Non è veramente Mary Mary come diceva anche Zerbian Ma è Joelle finalmente lo vediamo in una diretta Ogni volta lo vediamo sempre dall'altra parte dello schermo E adesso è direttamente qui con noi Allora questa challenge è molto particolare Cioè loro giocheranno a turni Vi farò cambio senza vedere E loro facendo a cambio ci dovranno passare il joypad Da uno all'altro Questa cosa che succede Se loro entrano nei primi 15 Sarò io a dovermi bere l'acqua dei pesci Sì avete capito bene L'acqua dei pesci Sennò saranno loro a doverti bersi l'acqua del nostro acquario Un sorso dell'acqua del nostro acquario Quindi vediamo chi sarà costretto a bersi l'acqua dell'acquario Ok? Vai vai Bravo ragazzi Non male che non devo bere Ah 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 Eh ah ah Federico ha detto Meno male che non devo bere l'acqua Ah 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 Lui sta lontano no? Anche se posso bere l'acqua dei miei pesci Eh ma bevitela Guardi il saluto quello come facciate No no me la bevo Eccolo Grande bro Grande bro Ma gioia Valuto? No La faccia la prete Colpe cilandese Eh Quanto fa? Fa 200 No ho due colpi Perchè ho due colpi e non mi spara Perchè ho due colpi e non mi spara No ho due colpi e non mi spara No ho due colpi e non mi spara Ti dirà a cambio lui Ciao Ciao Cristian Ciao regia Ciao Stata la regia sta dietro in regia Quindi non vede lo schermo Ciao regia Alve Alvec Io te la siete in partita Comunque non c'è niente Ok Siamo in partita Federico tu dove sei lì? Ah ok Eh io non sono basso però forse atterrò Vado vicino a te Qua Che roba è fissa Beh io da questa C'è un player Da questa sta andando Sì Oh caccolo Da questa sta andando Io da questa Eh Dove stava atterrando Alberto C'era un player quindi dove vuole andare Sì Sopra di te c'è una cazza Prenda Pampa 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 Ecco Ah uno mi ha fatto un headshot Non penso proprio un headshot pure di più Io ho un sacco di ping Benissimo Grande ping a 200 Eccolo la vedi quella dentro la Sì Cambio Vieni a curarmi Cambio Ah cambio Cambio È la cosa più difficile del mondo Vieni che c'è Cambio Aiuto non riesco a Non riesco a camminare Ci sei mandato Federico Io non riesco a camminare Con questo joystick E ho delle bende Ah ma io devo vedere da là è vero Non riesco a vedere da là Si guarda da là Eh ma non vedo quanti colpi ho Ti ho Se li dico io Va bene Prego C'è il doppio mover capito allora Aspetta ho gli speso per caricati Ehi perché ho preso una pistola Con che cosa ti rilascio ok Non riesco a camminare Albert non so giocare Sì ma sei incazzata Va bene non è questo mio Vita No perciò una scelta No è qui Cambio 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 Quando c'è battaglia Se ce l'ho io Dici cambiano Eh sì Sì se ce l'ho uno Sì Lo diamo all'altro Perché Alberto Mi regolo anch'io 50 50 Io non voglio perdere di nuovo Ogni volta Dobbiamo perdere io L'altra volta Ho scioppato Stavolta mi dobbia Fermi l'acqua Forse no Sì sì Ehi Vai Alvin Non è un po' pericolo Cambio Cambio Eh lo so No E' fatta il shield Shield È lo shield Shield No No Addio Addio Mando Uuuu Mouffitt Vieni che deve bere l'acqua Ok Qui siamo Prendi la telecamera Taccala Io Ok Ti inquadri Eh Eh Un torto Pizzera Dai Siamo gentili Anche Oh Che schifo Che schifo veramente schifosissima avete spostato il green screen avete fatto un macello allora ragazzi avete visto la faccia di joelle che adesso è sparito perché in due volte la telecamera si è abbassata cristiana ha messo la telecamera a 6 metri di altezza ovviamente ok va bene ragazzi dai è stata divertente lo diciamo dai era uno scherzo c'era il trucco aveva un bicchiere di otto dai mica li faccio bere a questi bambini faccio vedere l'acqua l'acqua sporca dei pesci avevamo un bicchiere di riserva dentro e l'abbiamo cambiata o non fate che tutti l'avevate capito che secondo me non aveva capito nessuno allora saluto alberto dai ciao ci vediamo in un nuovo video wow da laboroi letto mino e meri mari mari gioele gioele ciao ragazzi alla prossima